Benvenuti nella Puglia dall'Anima Wedding. Io sono Titti Pastore e assieme a mio fratello Francesco portiamo avanti un sogno. Un sogno chiamato Tenuta Donna Lavinia. Questo sogno è nato da un'ondacia intuizione del mio papà, Giuseppe Pastore, che negli anni 90 ristrutturò questa tenuta facendola diventare un punto di riferimento nel mondo dei ricevimenti iniziali. Scegliere di sposarsi in Donna Lavinia o in Lavina Bianchi significa scegliere due modi diametralmente opposti per vivere la propria anima wedding. Moderna e glamour oppure elegante e senza tempo. Significa inoltre avere anche la certezza di poter contare su complici affidabili e competenti, affinché il vostro giorno più importante risulti perfetto in ogni suo dettaglio. La tenuta è un luogo sempre in continua evoluzione. Oggi più che mai, in Donna Lavinia e in Lavinia Bianchi, fascino ed eleganza incontrano sapori ed essenze create da una ricerca continua per far vivere agli sposi e ai loro ospiti un'esperienza culinaria che rimanga indelebile nel tempo. La cura dei dettagli, le atmosfere ricercate, le emozioni senza tempo diventeranno la splendida cornice dei ricordi di un giorno semplicemente magico. I vostri sorrisi? La nostra più grande ricompensa. Donna Lavinia e Lavinia Bianchi ricevimenti Anime Wedding Non c'è Para Quello Saturday Molina Lord Marcha Lo Mi Lä Mi